Ma prima vorrei parlarvi di un progetto interessante nato fra l'ottobre e il novembre del 2016 che è attivissimo e sta discutendo un buon successo, anzi direi un ottimo successo nel territorio della provincia di Derni specialmente del comune di Avigliano e dei comuni limitrofi di Acquasparta e Montecastrilli stiamo parlando del giornale online Avigliano News curato dal direttore Giacomo Papini e da questa estate insieme a Mirko Piacenti, Elena Frasconi, Luca Biagetti e lo stesso Giacomo ho il piacere e l'onore di poter collaborare con questa testata nata appunto fra l'ottobre e il novembre del 2016 che cerca di raccontare delle storie, dare delle notizie su tutto ciò che accade nel territorio del comune di Avigliano nei territori limitrofi e nella provincia di Derni con un'apposita sezione io vi invito a visitare il sito che è fatto veramente molto bene curato molto bene da Luca Biagetti di Avigliano News ecco qua se riusciamo ad andarci Avigliano ecco qua se internet ci assiste www.aviglianonews.it vi invito a mettere mi piace e a seguire sia su Facebook sia su Instagram internet non ci assiste ci siamo ecco qua c'è una bellissima home page in cui ci sono gli articoli più recenti ci sono diverse rubriche cronaca, territorio, sport, eventi e provincia di Derni io avrò il piacere di collaborare per tutta questa estate c'è una mia presentazione Erzagra e una mia rubrica particolare che Erzagra racconta in cui parlerò delle sagre in cui mi trovo mi sono trovato a servire raccontandone soprattutto la storia non tanto degli eventi c'è una bellissima appunto redazione c'è un'ottima sintonia con gli altri collaboratori e soprattutto si cerca di raccontare bene delle storie storie, fatti, cronaca eventi, anche notizie più leggere veramente i complimenti vanno a Giacomo Papini per aver ideato questo progetto perché la realtà locale è importante è importante dare ai cittadini di un comune per quanto possa essere grande o piccolo un punto di aggregazione anche online nel quale ritrovarsi poter commentare perché è possibile commentare gli articoli leggere dei fatti commentarli con gli amici posteriormente dire la propria attraverso un luogo che racconta delle storie dà notizie sui eventi e informazioni su ciò che accade all'interno del comune nelle zone limitrofe nella provincia di Derni quindi seguite Facebook, Instagram Avigliano News